Amici di Telelibera, amici di Piazza Grande, ben ritrovati ai nostri consueti appuntamenti. Questa volta parleremo di un'associazione che si è costituita da poche settimane col nome Liberamente. Lo faremo con un ospite in studio, un membro del direttivo, Carlo Mauro. Grazie per essere qui nei nostri studi. Noi molte volte abbiamo raccontato di tante associazioni che operano sul nostro territorio, attività meritevoli di diverso genere. Adesso stiamo parlando di un gruppo di giovani che parallelamente poi le loro attività mi hanno anche coinvolto in un progetto, ne parleremo tra poco. Però prima vogliamo sapere quali sono le finalità, come è nata quest'idea, da che è composto il direttivo, un po' una presentazione di questa nuova associazione che si è costituita da poco. Allora, l'associazione culturale di formazione Liberamente, già nel nome possiamo evincere di che cose ci occupiamo. Cerchiamo di fare corsi di formazione che possono essere utili a tutta la popolazione e sia un modo di poter giungere tra formazione e mondo del lavoro. Oltre alla formazione ci occuperemo anche di eventi culturali e di tante tematiche che occupano questo ambiente molto vasto. Allora, è nata secondo me anche da un bisogno che c'è, perché molte volte io girando un po' il territorio, andando a tanti eventi, vedo che ai giovani c'è un po' di disgregazione, c'è un po' di difficoltà. Quindi magari anche proprio l'inserimento nel mondo del lavoro credo che sia uno snodo cruciale. Certo, perché al giorno d'oggi è molto difficile già trovare un lavoro e quindi cercheremo con questi eventi sia di formazione che culturale ad aiutare le persone ad avere nuovi sbocchi lavorativi, a creare appunto quel famoso lavoro fatto in casa, come dicono gli esperti lavorativi. Allora, questo territorio ha molte criticità, però mettersi insieme è già un passaggio positivo. Vogliamo parlare anche del direttivo, anche se naturalmente magari il numero sta crescendo degli associati, ma siete nati da poco, a quanto ho capito. Siamo nati l'8 di ottobre del 2018 e il direttivo è composto da 5 persone. Il presidente è Alessio Nigro, io sono il vicepresidente, poi abbiamo il tesoriere Donatella Adelia, abbiamo il segretario Gallina Alessandro e poi Flavia Adelia che è la responsabile per i rapporti pubblici. Allora, naturalmente sta partendo il tesseramento, è già partito. Sono varie le tematiche che andrete ad affrontare, anche perché è un po' variegato anche il direttivo, quindi siete dei ragazzi che comunque con la passione per lo studio, la passione per la preparazione e anche magari fare qualcosa per la collettività. Sì, partiremo tra poco con il corso di giornalismo sportivo che sarà tenuto appunto da Matteo, poi avremo modo di avere un corso di fotografia e un corso per fare le applicazioni e i siti internet. Abbiamo anche altri progetti in gattiere che dobbiamo sviluppare a breve. Allora, visto che comunque mi avete tirato in ballo, andiamo anche a raccontare un po' di che cosa è successo qualche giorno fa, così ai nostri telespettatori con grande trasparenza raccontiamo un po' qual è questo progetto che mi vede anche coinvolto. Abbiamo constatato che un corso di giornalismo, in questo caso prettamente sportivo, non era presente, non era mai stato fatto nel territorio. Quindi come gruppo ci siamo avvicinati a Matteo e abbiamo chiesto se aveva le intenzioni per fare questo corso. Matteo ci ha dato gentilmente una risposta positiva e quindi a breve inizieremo questo corso di giornalismo. Il primo incontro si terrà il 21 di novembre alle ore 19.30 presso via provinciale 297, i locali del Games Time che ci ha concesso l'uso di questi locali appunto. Allora io naturalmente volevo pubblicamente ringraziarvi perché avete pensato comunque alla mia persona, il giornalismo sportivo è una delle mie più grandi passioni oltre che essere anche un lavoro ormai e credo che sia comunque importante mettere a disposizione di chi lo vorrà quella che è la mia esperienza che è prettamente un'esperienza sul campo più che magari di redazione anche se poi magari c'è un lavoro a 360 gradi e c'è tanto da raccontare. Comunque c'è anche la pagina Facebook se non erro siete anche sui social quindi è possibile contattarvi per avere tutte le delucidazioni del caso. Ci sarà questo primo incontro il 21 se non erro. e ci saremo, ci sarò anch'io magari e racconteremo un po' i dettagli di quello che nell'occasione sto organizzando anch'io con voi. Grazie, buon lavoro. A te le conclusioni per concludere questo nostro credo primo incontro. Sì, volevo dire appunto che ribadiamo il 21 di novembre che c'è questo primo incontro dove Matteo illustrerà tutto il corso. Avremo sia incontri teorici che incontri pratici. Volevo solo ricordare che il tesseramento è aperto. Potete seguire la nostra pagina Facebook che è chiocciola.cf liberamente e in più potete contattarci tramite email a cf liberamente chiocciola gmail.com dove potete appunto chiederci tutte le informazioni del caso sia per questo corso che per gli altri corsi che terremo. Volevo invitare a tutti a tesserarsi perché il tesseramento dà la possibilità di avere delle scondistiche per tutti i corsi che appunto faremo. Allora, grazie, sei stato molto preciso. Grazie a te Matteo. Forse non ho riuscito anche a metterti insomma a tuo agio. È andata bene, è stato un crescendo questa intervista. Ho dovuto faticare meno del previsto. Allora, grazie a Carlo Mauro, grazie all'associazione Liberamente. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il direttivo. Arrivederci alle prossime, sempre qui, sempre in Piazza Grande. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.